Sto leggendo un po' ma siamo abbastanza messi bene, voglio dire, però adesso siamo mettendo a punto un algoritmo che è l'SVG4 di auto e crowdsourcing in modo che si possano intensificare e intersecare tutti i dati mondiali delle banche e delle dichiarazioni fiscali, si porranno dei sequestri come i mafiosi, con i mafiosi ci siamo riusciti ma questi sono leggermente peggio, quindi bisognerà oltre all'outsourcing fare un crowned outsourcing che sarebbe quello di una valutazione immediata dei beni patrimoniali residenti sia in Italia che all'estero e quando avremo sotto controllo la situazione che abbiamo i beni patrimoniali restituiti al popolo italiano non loro potranno uscire, anzi sarà doveroso mandarli via da questo paese che non ritornino più. Comunque ora vedo un po' come va l'SVG4, stiamo già facendo, intersecando i dati di banca dove sono gli scudi fiscali, ci sono nomi, cognomi, c'è tutto, quando metteremo tutto tutto su online con un programmino che stiamo facendo con i migliori tecnici, stiamo già convergendo sulle ufficiali giudiziari migliori che abbiamo, le forze di polizia con un Zipwar Ergenon, il Zipwar Ergenon è questo software che ci garantirà sia l'anonimato che la presenza dell'ufficiale giudiziario nel posto giusto al momento giusto. Per ora è tutto, vi teremo informati, grazie.